Allora Andrea Lavalle, quale sensazione nell'interpretare questo ruolo diverso? Perché come detto sia lei che Luca Costale siete nati come comici, invece questa volta c'è stato un cambio di rotta. Esatto, è stata un'esperienza bellissima, avevamo una voglia di metterci alla prova in un ruolo nuovo dopo tanti anni di film, indipendenti comici, spettacoli teatrali sempre di genere comico abbiamo detto boom cambiamo, mettiamoci alla prova qualcosa di nuovo e così è nata l'idea di Melle Rosse, un thriller e l'emozione è bella e tanta e ci rende onorati di presentare questo prodotto al cinema di Domo e ai vari festival nazionali e internazionali. Grazie.